In 14 pagine le motivazioni dell'unità di crisi della regione Campania, che motivano l'ordinanza di chiusura delle scuole del ciclo primario in Campania. È questo il dossier che il TAR di Napoli dovrà valutare per decidere se sia giustificata o meno la scelta fatta dal presidente della regione Campania De Luca. Si parte dall'aumento esponenziale del contagio in regione. Nell'ultimo mese ammontano a più del doppio rispetto al periodo di massima diffusione della cosiddetta seconda ondata, ottobre-novembre 2020. L'incremento è stato repentino a partire dalla seconda metà di dicembre 2022. Il contagio si è prevalentemente diffuso nelle classi d'età giovanili nell'ultima settimana. Il 70% dei casi segnalati sono a pannaggio dell'età 0-44 anni, il 32% tra 0 e 24 anni, in linea con le settimane precedenti. Fra 0 e 44 anni si registrano valori sino a 10 volte superiori al valore di allarme individuato dal Ministero. Sul report dell'unità di crisi, il dato viene sviluppato per singole province che hanno un andamento simile. Quella di Salerno mostra in linea con tutte le altre campane un notevole aumento della diagnosi di Covid-19 passato da 295 a 937 casi ogni 100.000 abitanti. Anche in questo caso viene evidenziato come la diffusione del contagio interessa soprattutto le fasce più giovanili della popolazione. Un aumento dei casi legato soprattutto alla diffusione della variante Omicron che in campania, come si vede nel grafico, è ormai prevalente. A questo, per l'unità di crisi, si deve aggiungere che la campagna vaccinale nelle fasci più esposte al contagio dà numeri molto bassi. Su una popolazione complessiva di 505.156 residenti, il numero di vaccinati in prima dose è pari in media al 23,74%, con valori molto differenti tra i diversi anni di età. Solo il 18,95% ha completato il ciclo vaccinale con due dosi. Tutto questo peserà sulle strutture ospedaliere. La probabilità di raggiungere le soglie di occupazione posti letto di terapie intensive di aree mediche supera il 50% nel prossimo mese, con un aumento dei ricoveri in fascia pediatrica di pazienti positivi al covid e sintomatici, prevalentemente per bambini di età inferiore a 10 anni, il cui numero è raddoppiato negli ultimi 10 giorni.